Buonasera, le origini e il tema di oggi. Quando mi hanno chiesto di partecipare al TEDx ero molto emozionata, lo sono ancora adesso. La prima cosa che ho fatto è andare nel bosco e cercare di capire che cosa significava questa parola molto importante, di cercare di qual era il tema che volevo portarvi oggi. Io sono Ludovica Rubini, sono un'imprenditrice agricola, sono una moglie, sono una mamma, ma soprattutto sono una donna che ha un sogno. Vivo a Cortina d'Ampezzo che è un piccolissimo paese di 6.000 abitanti. È un paese che nonostante la sua notorietà è un paese dove vivono persone molto umili, grandi lavoratori, dove vivono persone che nella loro vita cercano sempre ogni giorno di preservare la loro provenienza, le loro origini. Siamo dentro le Dolomiti, siamo in uno dei posti più belli del mondo, un patrimonio dell'UNESCO e ho capito vivendo lì che chi nasce, ma soprattutto chi vive nella bellezza, sarà sempre più propenso nella salvaguardia del territorio e delle proprie origini. Quando sono andata a vivere a Cortina ero molto giovane e all'inizio mi sono sentita subito spaesata, non mi sentivo a mio agio e ho cercato di prendere il buono dalle cose che facevo. Andavo spesso nel bosco e camminavo e nel bosco ho capito che quello che pensavo fosse una situazione di disagio in realtà era una forza che mi stava nascendo dentro, perché questo bosco mi ha lasciato questa forza. Ero lì in quel punto davanti alle montagne, avevo un ruscello a fianco e c'era quel profumo d'aria, quel profumo che si sente quando c'è stata una tempesta, quando tagliano degli alberi e c'è quel odore di resina. Per me in montagna profuma anche l'acqua. I quattro elementi io oggi vi vorrei portare in un percorso fatto di quattro elementi. Quattro elementi perché i quattro elementi sono all'origine di ognuno di noi e io li vevo un pochino come se fossero delle mie tappe nella vita. Vi voglio parlare di quello che per me è origine e vorrei farlo facendovi fare questo sentiero. Terra, acqua, aria e fuoco sono questi gli elementi e sono convinta che uno dei modi per tornare alle nostre origini è riconnettersi con questi elementi. Iniziamo. Terra. La terra sono le mie radici e ciò che mi ha dato la spinta per iniziare questo percorso. Lo chiamo percorso perché secondo me la vita è un percorso fatto di momenti in cui inciampiamo, cadiamo, giriamo un angolo scuro, attraversiamo una tempesta, una zona fosa dove ci manca l'aria. Però è anche il percorso che noi ci costruiamo e che ci costruiscono le persone che ci stanno attorno. La terra è da dove sono partita. La terra sono le mie radici perché ognuno di noi, anche se non vuole, ha delle radici che ci tengono legati alle nostre origini. Ma queste radici ci devono dare anche la spinta per andare avanti, per essere consapevoli che dobbiamo seguire ogni giorno il nostro obiettivo. Cortina non è la mia città d'origine, io sono bolognese e sono andata a vivere a Cortina a 22 anni e questa mia avventura l'ho iniziata con un cuore grande ma piedi molto infantili. Oggi, dopo 15 anni, mi rendo conto di affrontare la mia vita con un cuore da bambina ma piedi molto forti. Le mie origini, il mio carattere ottimista, allegro, estroverso, curioso mi ha aiutato moltissimo nella mia vita, nella mia vita professionale e nella mia vita quotidiana. La terra è dove ti senti a casa, ma la terra e l'ambiente che ti ospita è ciò che ti legherà per sempre. La mia casa è una casa con meno macchine più cime, è una casa con meno suoni e più silenzi, è una casa con meno asfalto e più terra. La terra è la genesi delle origini. Acqua. Mamma, dov'è il rubinetto dei fiumi? Questa è stata una delle domande di mia figlia Cecilia, io ho due bambine, Cecilia e Clementina, nell'età dei perché che tutti i genitori sanno a che cosa si va incontro quotidianamente. Mi ha fatto questa domanda che all'inizio mi ha lasciata un pochino con delle domande stesse a me. Poi ho cercato di pensare a che cosa poterle rispondere e mi sono chiesta dove nasce l'acqua, finirà mai? L'acqua l'ho sempre immaginata come un elemento da invidiare, l'acqua scorre. L'acqua ci dà una speranza perché se le piante nascono e crescono è grazie all'acqua. Uno dei miei ricordi più belli di quando ero bambina, andavo nel bosco con i miei genitori a fare dei picnic, ci fermavamo sempre in un prato a fianco al ruscello. Questo perché ci dava sicuramente pace, ci permetteva di abbeverarci, ci permetteva di giocare noi bambini nell'acqua e lì ho capito che l'acqua nasce in montagna e nasce pura perché io ero abituata a vedere l'acqua in città, non sempre pulitissima e nasce sempre da una sorgente nascosta. L'acqua diciamo che è un elemento meraviglioso, vi dicevo, l'acqua scorre, l'acqua è il simbolo della purificazione, l'acqua è speranza, l'acqua non si ferma, non è un muro, l'acqua non... se immergiamo la mano in un fiume sentiamo solo una carezza, l'acqua è libera perché va dove vuole andare, niente le si può opporre. L'acqua logora e consuma una pietra, senza avere mai fretta ma con costanza, l'acqua che idrata nutre e vorrei ripetervi un concetto, l'acqua che gocciola consuma una pietra, lo vorrei ripetere perché io nella mia vita quando davanti a me ho avuto un ostacolo ho cercato di prendere esempio dall'acqua, ho gocciolato quando dovevo consumare oppure ho girato attorno quando volevo arrivare al mio obiettivo, con speranza, con fermezza e con lentezza. Aria. Ed ora vi chiedo di chiudere un attimo gli occhi e di fare un respiro. Immaginatevi il silenzio della montagna, la sua maestosità. Immaginatevi il vuoto sotto i piedi, il freddo di una roccia, il respiro affannato. Immaginatevi di essere in cima a una montagna, vicino all'aria, pieni di aria. Ecco molti dei ricordi miei profumano di aria. Io e Riccardo, mio marito, mi ha portato a fare una ferrata un giorno, molto difficile. Eravamo in cima a una montagna, io e lui. Lì lui ha capito che ero la donna per lui. Io l'avevo già capito, in parte. In quel momento profumavamo d'aria, quell'aria che ancora oggi, quando sento, mi riporta esattamente in quel momento, in quel posto, perché l'aria fa questo. L'aria trasporta ogni cosa, pulisce il cielo, ci dà respiro. L'aria è l'origine. L'aria è l'elemento che decide della nostra sopravvivenza. È potente e pauroso, ma è anche potente e delicato. L'aria è dovunque. Mia figlia Clementina, che ama sciare, profuma d'aria quando torna a casa. L'aria ci chiede di non esagerare. Quando abbiamo un momento di ansia, basta chiudere gli occhi e respirare. E questo ci riporta esattamente in sintonia con il nostro corpo e con il nostro mondo. Io mi sento come l'aria. Questo è l'elemento che più mi avvicina. Esisto, mi sento, ma non vedo ciò che ho fatto, ma cerco di guardare ciò che farò. E ora vi chiedo di fare l'ultimo respiro chiudendo gli occhi. Ogni nostro respiro deve essere una promessa da mantenere con la natura. Il soffio di vita delle origini. Acqua, fuoco, aria. Ora siamo a fuoco. Grazie. Grazie a tutti. Allora, l'unione del fuoco e dell'acqua formano il simbolo dell'anima umana. Il fuoco è l'origine, con la O maiuscola. È la forza profonda ed è il motore della rigenerazione. Il fuoco è convivialità, è famiglia. Il fuoco è estate e inverno. Il mio ricordo più bello è un ricordo molto recente. eravamo a settembre durante il nostro evento Genesis, un evento che come focus aveva il ritorno alle origini. Volevamo parlare della natura, del cibo, delle persone. L'ultima sera abbiamo allestito un campo di tende in mezzo alla natura, in una conca di larici. Volevamo cucinare solo con il fuoco. Abbiamo fatto lo zabaione. Abbiamo messo due ore a fare quello zabaione, ma è stato lo zabaione più buono della mia vita. Durante questo evento avevamo invitato chef da tutta Europa, sponsor importanti che ci avevano supportato per fare l'evento, giornalisti, c'erano i nostri clienti che sono le persone più importanti per noi. E questo fuoco ha fatto una cosa incredibile, ha creato una magia. Davanti a questo fuoco ci siamo sentiti tutti uguali, ci ha tolto da tutti gli status, titoli di studio. Questo fuoco ci ha fatto sentire piccolissimi di fronte alla natura, ci ha fatto sentire alle origini dell'essere umano. Qualche tempo fa abbiamo iniziato a parlare di cucina rigenerativa, un concetto per noi molto importante. Noi abbiamo l'azienda agricola, da noi il prodotto nasce, viene portato sulla tavola e quello che viene sprecato viene riportato in azienda come mangive per gli animali. Il fuoco, protagonista dell'ultima serata di Genesis, ci ha insegnato quale sarebbe stata la nostra missione, la mia missione, ed è riportare tutto alle origini, con la semplicità con la quale lo fanno questi quattro elementi di cui vi ho parlato oggi, i quattro elementi che lo compongono. La nostra missione è cercare di compiere un grandissimo salto verso la rigenerazione umana. Grazie.